Grazie. 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 Sono state delle schiacciate che mi hanno fatto provare sensazioni incredibili sia per la giocata in sé sia per l'effetto che hanno avuto sulla folla e il fatto che fosse un momento fantastico per tutta la nostra squadra. Sono entusiasmato da questa partita. Come hanno vissuto in campo i primi cinque minuti dopo il rientro dall'intervallo con un parziale disastroso per Pistoia? Cosa per i primi cinque minuti dopo la seconda off quando hai avuto il passivo? I primi cinque minuti credo che il team è venuto già pronti a giocare e non eravamo pronti all'interno e poi eravamo potuto andare a spiegare e tutti i ragazzi si sono insieme, si sono insieme e hanno detto che bisogna continuare a combattere e continuare a giocare, continuare a seguire ci siamo fatti trovare poco pronti a rientro in campo dopo il primo tempo però come squadra abbiamo detto che dobbiamo continuare a giocare, non dobbiamo perdere il filo della partita e infatti la risposta alla fine del terzo quarto c'è stata. Nel finale è vero che è stato decisivo con il canestro Johnson, però probabilmente era buono anche il suo di canestro se ci racconta in quell'episodio. Il classo di play, il testo di play, era il gioco di Gawano Il primo era il tuo che era il tuo che era buono per me L'idea, uno di questi campi che ha fatto un po' di fulgare e il ref ha fatto un po' di fulgare e poi abbiamo avuto il gioco e abbiamo fatto un po' di fulgare e abbiamo fatto un po' di fulgare Sì, in effetti il suo tiro è stato un tentativo di andare a canestro velocemente visto che mancavano pochi secondi poi purtroppo l'arbitro ha chiamato un fallo su un'altra azione di gioco e quindi ha dovuto annullare il canestro poi dopo c'è stato il canestro 6 di Jawan si è trovato nella situazione di poter tirare, ha sfruttato l'occasione e l'ha messo dentro Senti, quanto è un'età nella vostra autostima tra le prime 5 partite adesso, se vanno a spazio, si vedete Come hai avuto la sua autostima se il primo gioco del Champions Sì, è arrivato un lungo Sì, l'inizio è stato molto lentamente stavamo giocati con un po' di ragazzi e tutti stavamo cercando di entrare in ritmo e ora, tutti stavano giocati con confidenza per me stesso mi sento come poter giocare con ogni team in la Liga e il rapporto con Mr. Moretti a questo punto com'è? Qual è la tua relazione con il coach Moretti? Anzi Il mio rapporto con il coach Moretti è molto buono è una grandissima persona prima di tutto e poi è anche un ottimo coach soprattutto perché riesce sempre a darci delle motivazioni e a spingerci e a spingerci se facciamo qualcosa di sbagliato non è che ci grida dietro ma alla fine dell'allenamento alla fine della partita ci dice sempre cosa abbiamo fatto di buono e riesce sempre a tirare fuori il massimo dal nostro potenziale che è importante per la classifica per il loro morale questa vittoria e anche per la parte ma in quanto sia importante quanto riguarda la squadra questa routine per 익enziare per la squadra per la команza abbiamo fatto anche ogni anno per i nostri spilare per noi e per aminare e per la squadra sono in mixedro anche per il modo di direzione è stato un bel perché è stato molto importante perché sicuramente per quello che riguarda la classifica è una vittoria importante ma questo perché ci permette di guardare alle prossime partite come opportunità per vincere per quello che riguarda il morale è una grandissima vittoria sia perché appunto come dicevo prima ci permette di essere sicuri che possiamo competere anche con le squadre più forti del campionato e poi anche perché per come è arrivata vincere all'ultimo tiro una partita che è stata aperta fino all'ultimo è una cosa che ci rende molto orgogliosi perché probabilmente all'inizio del campionato una partita del genere non l'avremmo vinta adesso abbiamo parato a vincere queste partite